Sabato della diciannovesima settimana del tempo ordinario, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse, Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro, infatti, appartiene il Regno dei Cieli. E, dopo aver imposto loro le mani, andò via di là. Commento al Vangelo del giorno di Papa Francesco. Una volta Gesù rimproverò i suoi discepoli perché allontanavano i bambini che i genitori li portavano, perché li benedicesse. Che bella questa fiducia dei genitori e questa risposta di Gesù. Come vorrei che questa pagina diventasse la storia normale di tutti i bambini. È vero che, grazie a Dio, i bambini con gravi difficoltà trovano molto spesso genitori straordinari, pronti a ogni sacrificio e a ogni generosità. Ma questi genitori non dovrebbero essere lasciati soli. Dovremmo accompagnare la loro fatica, ma anche offrire loro momenti di gioia condivisa e di allegria spensierata, perché non siano presi solo dalla routine terapeutica.